non va bene zi se lo so ce l'avevi promesso l'anno scorso avevo promesso l'anno scorso avete regione ragazzi si fa zi se avete regione avete regione no no avete regione no no avete regione guardate sono stato io come stai ho saputo che ti sei lasciato un po andare quest'anno e non va bene non va bene non ci teniamo ti vogliamo in forma quindi cammina di più cerca di mangiare meglio e vedrai che i risultati arrivano ok fallo per noi ciao un bacio ciao zio sergio ma mi hanno detto che tu qua stai tradendo la tradizione aveva detto l'anno scorso ti metteva a dieta dieta quella se un qualcuno è qua zi se devi fare la dieta zi se ciao bello mi raccomando ciao si vedete zio se un uccellino mi ha detto brutte cose mi ha detto che hai smesso di impegnarti nella dieta di camminare e questo non ti fa bene quindi sono tornato a dirti che ti deve impegnare come te ho già detto un'altra volta non lo devi fare per te ma lo devi fare per chi ti vuole bene perché c'è gente che ti vuole bene ti vuole vedere in forma e quindi dai su vero vero per noi ci se ti facciamo questo video perché ho saputo che dall'anno scorso non sei dimagrito neanche un etto e sinceramente siamo siamo profondamente delusi anche perché ne vale della tua salute e non vogliamo che ti senti male se quindi ti chiediamo diciamo un favore ma un favore che fai a te stesso per favore rincomincia la dieta ciao zi se mi raccomando eh ciao zi se ho un tuo grandissimo lavoro ti dico devi dimagrire zi se ti fa bene devi prenderti di voglia farti una camminata al giorno fino a zio bello e con arredo e vedrai che minimo in non hanno siccome al roberto e ti volimo bene zi se devi dimagrire ciao zi se ho zi se e devi e devi mette sul fisico mica ti sei impegnato quest'anno devi devi trottare devi camminare devi correre fai a modo fai a modo dai dai che so che sei uno forte so che sei uno veramente volenteroso quindi darci dentro mi raccomando dati da fare sveglia sveglia dai 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 forza ciao zi se ci riconosci a me devi riconoscere per forza e tutte le state anche Virginia non si ricorda tante comunque ti mando questo video perché pure con roberto ogni volta d'estate te lo diciamo te lo dico sempre te lo dice pure mio padre sempre non devi mangiare non devi mangiare cazzate perché devi stare con noi durante l'estate ci dobbiamo divertire lo vuoi capire o no le coca cole le cioccolate la pasta devi mangiare verdura devi mangiare la frutta te lo dice pure sempre mio padre il dottore mi raccomando zi se basta mangiare dolci basta coca cole cammina vai cammina non prendere sempre devi camminare cammina cammina mi raccomando è che la prossima estate sono di nuovo lì e ti voglio vedere più in forma e dimagrito devi dimagrire se non mi arrabbio e se non vengo più boh non vengo più se il prossimo anno sei ancora così io non vengo più e avviso tutti i fan club di non venire più e boh ok ciao ci sei ciao 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 che ti vogliamo bene che ti seguiamo sempre in ogni video e che però ci siamo accorti che dovresti fare un pochino di dieta una camminata al giorno almeno una camminata al giorno meno merendine meno coca cola tante verdure e sport e c'è una persona che ti vorrebbe saluta ricordati ma se non dimagrisci andrà a tirare più in mossa e non ti farà fare nessun video e chi è? ciao zio sergio sono batman sono un tuo grande fan ma ho bisogno del tuo aiuto robin si è licenziato e mi serve un nuovo aiutante quindi ti prego mettiti a dieta perché se no la sua tuta non ti sta è una s come sergio e vieni a salvare con me gotham poi salveremo monasteraggio a presto e non ti ti avviedo che vi offre mincio eh al direttore ha scritto ti prendiamo questo esercizio mi ringrazio di quello che avete avete detto perché io sono stato un po' un po' un po' cattivo sulle sulle cose torce sulle cose che mi fanno male spero che la prossima volta mi vedete più magro che farò una passeggiata ogni giorno farò una passeggiata stavolta ci siamo stavolta ci siamo di brutto stavolta ci siamo l'avevo promesso l'avevo promesso e non ho mantenuto la promessa ho salito i miei fanci e quindi non lo dovevo cadere ho la porta io avevo la sensazione di fare karate però quelle karate quel kung fu mi ha bisogno per poter fare un po' di vieta non ho fatto dieta ho preso in giro tutte le mie fanci però posso posso rimediare posso rimediare a fare un po' di vieta i statuaggi, i statuaggi, i statuaggi dell'oggi c'è non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti che Alessandra te rifà i statuaggi, i statuaggi, i statuaggi dell'oggi c'è